Ciao, sono Vincenzo e faccio le cacche in piedi. Anche io che sono orco faccio le cacche in piedi. Come ti chiami tu? Trickstar Loki. Ciao. Loki? Loni, interagisci? Ma che palle questi minecrafter? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di... Minecraft Hunger Games e facciamo una torre di quattro persone! Che stavo scedendo. Scusate, sono pazzo. Vattene, vattene! Mh, mh. Non ho però son me. Comunque, questo nuovo episodio di Hunger Games, quale? Tipo, siamo arrivati al decimo forse? Non mi ricordo. No, decimo se no, vattene. Fanculo Panda, vattene. Fanculo Panda, cercheremo di fare meglio nella partita scorsa, perché la partita scorsa non è andata bellissimo. Fanculo. Non è andata bellissimo. Fanculo, maia. Entriamo subito? Entriamo subito? Fanculo, maia. Fanculo, maia, io entro in questo caso perché dobbiamo entrare, giusto? Ma non è fanculo Maria, eh? No, Maria. E io dico fanculo, maia. Vincenzo, tipo la licenziata, eh? Ti infleggio, fanculo, maia, io esso. Licenziata, arrivederci. Vincenzo cercherà di non uscire alla partita e di non distruggere un'intera puntata. Siamo nella Shattered Kingdom. Oh! E sti cazzi? Ma che ho preso? Polli, biscotti? Tutto è bello cliccare a voto senza prendere niente. Io ho preso polli, biscotti, cose inutili. Vabbè, cibo, cibo, io ho preso due canne da pesca, un'ascia di rengue. Dove sei? Così viaggiamo assieme. Mi piace quando dici ascia. Eh, perché non riesco più a parlare. Mi sei fottuto la lingua. Ascia. Sì, vabbè. Chi ha morito uno? Minchia, l'ho fatto io, io. Non ci credo. Ho rubato la kill a uno. Ho fatto il first blood e mi ha ucciso quello. L'ha fatto bene. L'ha fatto bene. Ma ci sarà mai una partita dove siamo assieme? Non lo so, non lo so, non lo so. Intanto io ti spetto. Miffi, fai tu con me? Non è possibile che io perdo così presto. Speravo di trovare qualche cesto, ma... Era vuoto? Ahimè, è tutto vuoto, ahimè. All healthy? Imen è tutto vuoto, Imen. Uh, hai trovato belle cosette. Mettiti i pantaloni loro. Brava. Ma che cazzo è? Corri male, corri male. Ma che micchia è? Non ti giuro no. Gira, digira, digira ora. Guarda lì, guarda che stava facendo. No, no, no. Ma la micchia l'ha ammazzato. Battene subito proprio con i peni nel culo. Ti giuro, ma lo sentito un botto. Sì, è perché quello l'avrò usato il... Il Grand Pound. Il Grand Town. Il Grand Canyon. Mangia un po', cuginino, mangiate un po'. C'è un panda. C'è un panda, attento, attento. Ma, 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 culo. Porca miseria, il panda. C'è mia destinzione. Ti amo, il favore, è la mia costa. Ti amo. Quittiamo. Vabbè, appunto ti amo, tipo. Quitt ti amo, hai detto. Quitt è uno youtuber, lo sai? Ti amo. Ti ricordi? Quitt è uno youtuber. No, 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 no. Ma, eh, non lo conosci, quitt, eh, tu lo ami? Ditelo, andate nel canale di quitt, ditelo, sai di rimarrivare i mondi? Ti ama. Però non lo conosco. e vuole darti un bacio in bocca c'è pure una ragazza una ragazza facciamo i sfigati nerd che giocano online e trovo una ragazza online ma tu sei una ragazza che ci fai fammi ti invitare giocato a me ora sapete tutti come ci chiamano su minecraft quindi se ci volete invitare è invitateci fate cure tanto non mi accettiamo puoi essere solo nel party andiamo io invitare te noi due ma che dico l'estracomunitario strano io prendi le ceste che sono quelle sott'acqua che di solito hanno sempre il meglio roba e andate me l'affanculo mi sono preso una giubba e delle scarpette ti stanno piccando male ti voglio venire a salvare ammazzalo male ammazzalo mi hai picchietto a me scusa scusa non me lo parlo si ha un pollo in mano quello io ti picchio col pollo veni qua brutto pollo di merda mi fa sonire la parte criminale di me veni qua vieni qua vieni qua vieni cia cia però si gusta questo che cazzo ha fatto ma tipo si è baggatissimo l'hai visto si è fermato tutto l'unzorato e poi ha fatto uno scatto enorme lag o è lag o è un cita questo è un pezzo di me no un cita no perché questo ce l'avrebbe fatto fuori all'istante c'è qualcuno che mi sta picchiando vero no 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 sta solo la giubba a meno che non esce una spadona questo lo fottiamo male guarda come fottiamo arrattate o come cazzo si chiama arrattata ammazza arrattata ma dove sei tu qua dietro di te corri corri forest c'è un altro c'è un altro che lo picchia c'è un altro che lo picchia l'ho ucciso l'ho ucciso quello oddio che casino che c- no l'ho perso dai ragazzi è successo il puro delirio il puro delirio puro delirio puro delirio ma cosa vuol dire delirio puro delirio come ho detto puro delirio che bello non ho preso un cazzo di niente che è te oh ho preso 25 elmetti che è sparita no che cazzo che cazzo ho toccato ho preso 50 elmetti guarda che è successo il mio minecraft f1 ma me lo potevi dire tre anni fa eh ma non l'avevo visto se mi avvisavi dio ma che tanto l'era successo piglialo e mettilo piccami piccami piccia sofia ciao vuole fare partita vuole fare forse voleva essere con noi dici ma non c'ha scritto un cacchio aiuto l'ho uccisa grande hai armi in più ancora tieni l'osso grazie amico spoltacelo cane ci va di vista mele a posto a posto andiamo ciccio oh c'è uno vieni picciamolo picciamolo arrivo arrivo stai calmi stai calmi questo è le cose d'oro questo ci ammazza male ottimo vai ciccio che hai preso un delirio tipo aspetta aspetta non calma passami passami i pantaloni che non ce ne ho passami 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 ancora una filipara 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 no no con il d'oro non è meglio no forse no ah beh usci su passamene uno passami un pantalone ma specio carna passami un pantalone prima che bene qualcuno cazzo tiralo fuori sveglia un attimo un attimo vuoi un pantalone si quanto costa tre euro siamo a dieci oh forse mai siamo arrivati così lontano assieme ma che stai dicendo tu ogni volta c'è uno c'è uno dove sei ma dove sei dietro di te dietro di te no ce ne troppi vattene minchia la dnt ha lanciato quello scappa scappa male scappa male non te ne andavi in acqua ti prego ma perché c'è tutto sto lag c'è un calo di fps tipo impressionante aiuto 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 dove sei dietro di te scappa ti prego non ti girare non ti girare vai avanti vai ora vai ora ammazziamolo è solo dici c'hai amici dietro bastardo questo si fa a muovere minchia il pezzo di merda mi ha ucciso vaffanculo vaffanculo fattiti non tu bene ragazzi l'episodio finisce qui è finita si è finita siamo arrivati tra i primi 10 top 10 lo so che non ho un livello degno di noi però pazienza non ce l'abbiamo fatta a fare meglio degli altri episodi anche se il penultimo non è andato benissimo quindi ragazzi se il video vi è piaciuto ti ricordo sempre di mettere pollice in su di commentare condividere e di iscriverci soprattutto dei suggerimenti che io dico sempre anche per altre serie quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao